Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Quando si realizza un film, soprattutto per quanto riguarda film dalla trama ricca di personaggi ed eventi, vengono ideate e anche prodotte diverse scene, che poi però non vengono incluse nella versione finale del film stesso. Da questo punto di vista Jurassic Park non fa eccezione, idem dicasi per Il Mondo Perduto e per Jurassic Park 3. In questo video Jurassic Park Lore vi parlerò delle scene tagliate più interessanti dei primi tre film della saga. Magari più avanti faremo lo stesso anche con i vari Jurassic World. Prima di iniziare, come di consueto, vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Andiamo rigorosamente in ordine cronologico, partendo quindi da Jurassic Park. Una delle scene più iconiche del film è quella che ci mostra Alan Grant e Ellie Sattler nel loro ambiente naturale, ossia mentre lavorano allo scavo in Montana. Di questa sequenza venne girata anche una versione estesa, in cui Alan rifletteva sulla grande intelligenza dei veloci raptor, anticipandoci così la loro pericolosità. Inoltre veniva menzionato un fossile di tenotosauro, un dinosauro parente del Liguanodonte, così come avviene nel romanzo di Crichton. Per quanto riguarda l'arrivo dei primi visitatori sull'isola, anche in questo caso vennero girate varie scene poi tagliate. Per esempio, in una breve scena, Ellie si sporgia a toccare una foglia preistorica. Poi Ian chiede a John perché avessi invitato l'ex team, e Hammond risponde per fargli vivere dei bei momenti, visto che i genitori stanno divorziando. E poi ancora era pensata una scena in cui le macchine su rotaie partivano da un garage sotto il centro visitatori. Per quanto riguarda i dinosauri, una delle scene tagliate più interessanti è quella del baby triceratopo. Come ben sappiamo, Ellie visita una triceratops malata, che mostra segni di avvelenamento da bacche di lilla delle antille. Ebbene, qui avrebbe dovuto comparire anche un cucciolo di triceratopo, tanto che gli Stan Winston Studios realizzarono l'animatronics. La sequenza venne poi tagliata, nonostante fossero stati pensati anche degli storyboard. Ad ogni modo, il baby triceratopo venne poi riutilizzato in Il Mondo Perduto, durante la sequenza del sabotaggio delle gabbie. Avete presente la scena in cui Malcolm esce dall'auto per attirare l'attenzione del tirannosauro, permettendo ad Alan di aiutare i bambini? Nella prima versione di Jurassic Park, Malcolm non faceva l'eroe, semplicemente scappava in preda al panico, ottenendo comunque il risultato di attirare l'attenzione di Rexy. Jeff Goldblum chiese a Spielberg di cambiare la scena, in modo da far apparire meno codardo il suo personaggio. Facciamo un salto in avanti con gli eventi di Jurassic Park e arriviamo al momento in cui i personaggi decidono di disinserire e poi riattivare la corrente di tutto il parco. Qui era stata girata una sequenza più lunga, in cui vediamo Ellie e Muldoon raggiungere il famoso bunker. La scena venne poi tagliata per ragioni di durata del film. Anche la scena in cui Ellie incontra Alan, dopo essere fuggita dai Raptor, venne girata in versione estesa, salvo poi essere ridotta. Una menzione merita anche una scena che fu tagliata, diciamo a prescindere, ossia l'inseguimento del T-Rex nel fiume. Nel romanzo di Crichton il tirannosauro insegue Alan, Lex e Tim nuotando in un fiume di Nublar. Spielberg sembrava intenzionato a includere questa iconica sequenza, ma poi cambiò idea per diverse ragioni. Per quanto riguarda invece i finali alternativi di Jurassic Park, ho dedicato un video specifico a cui vi rimando per maggiori dettagli. Passiamo ora a Il mondo perduto. Per il secondo film della saga venne pensata una scena d'apertura alquanto diversa da quella definitiva. Mi riferisco all'attacco dei compi alla bambina. Venne infatti pensata una sequenza in cui un peschereccio giapponese tirava fuori dall'oceano una carcassa di parasaurolofo, salvo poi farla ricadere in acqua per il troppo peso. La carcassa venne realizzata, ma la scena fu tagliata. La scultura comunque è stata riutilizzata in Jurassic Park 3, come preda del T-Rex. Un'altra celebre scena tagliata di Il mondo perduto è la riunione degli azionisti InGen tenuta da Lodlow. La sequenza, interamente girata e quindi visibile nei formati omovideo e anche su YouTube, mostra Lodlow elencare i costi del fallimento di Jurassic Park, inclusi i risarcimenti alle famiglie delle vittime, lo smaltimento delle strutture di Slanublar e altri costi ancora. Un'altra famosa scena tagliata e completamente girata è quella che introduce il personaggio di Roland Tembo. Agile rintraccia Roland in Kenya per informarlo sull'offerta di Lodlow. Il grande cacciatore si dimostra scettico, ma alla fine accetta quando capisce che potrà cacciare un tirannosauro. La scena si chiude con Roland che assesta un cazzotto a un turista che importunava una cameriera. Furono anche girate in versione estesa diverse scene dedicate alla squadra di Ian Malcolm. In una avremmo visto lui, Eddie e Nick passare in rassegna i veicoli e i gadget disponibili. Inoltre la scena con gli stegosauri e Sarah venne girata in una versione più lunga, poi rimaneggiata. David Coep, sceneggiatore di Jurassic Park e di Il Mondo Perduto, ha parlato anche di una scena in cui Roland e Lodlow si confrontavano sulle rispettive visioni e obiettivi, il tutto mentre Tembo seguiva le tracce dei Rex. Inoltre venne girata una scena in cui Lodlow, spaventandosi dopo aver sentito un suono nella foresta, inciampava cadendo rovinosamente sul piccolo T-Rex incatenato da Tembo. Ciò causa la frattura alla zampa del cucciolo di tirannosauro, cosa che nella versione finale del film non viene effettivamente ben spiegata. Anche la sequenza dell'attacco al campo degli uomini di Lodlow venne girata in versione estesa. In questa versione Nick spiega agli altri il suo piano e inoltre sabota i veicoli tagliando alcuni tubi. Ciò spiega perché diversi mezzi esplodono durante la fuga dei dinosauri. Inoltre Nick e Sarah si fermano ad ascoltare alcuni discorsi di Lodlow e dei suoi uomini. Negli storyboard del Mondo Perduto è anche presente una scena in cui i T-Rex attaccano la Tana Alta, dove si rifugiano Eddie, Ian e la giovane Kelly. Un altro celebre storyboard tagliato mostra invece l'attacco di alcuni pterosauri agli elicotteri della InGen, arrivati a seguito della richiesta di aiuto di Nick Van Owen. Venne inoltre pensata una versione più lunga della parte con i veloci Raptor, con annessio in seguimento, ma questa non venne nemmeno girata. Menzioniamo ora un paio di scene tagliate e ambientate a San Diego, dopo il disastroso arrivo della SS Venture. La fuga di Buck dall'SS Venture venne inizialmente pensata come una scena più articolata. Anche la scena in cui Buck spunta fuori dalla finestra di Benjamin, il bambino, era stata girata in versione estesa. Buck prima annuse i genitori di Benjamin, infilando la testa tramite una finestra aperta, poi sarebbe spuntato dalla finestra del bambino. Infine, anche per il Mondo Perduto vennero pensati alcuni finali alternativi. In uno Sarah si imbarcava a bordo dell'SS Venture per sovrintendere il ritorno dei Rex sull'Isla Sorna. In un altro, invece, si vedeva Ian Malcolm al funerale di John Hammond. È giunto il momento di parlare anche di Jurassic Park 3, che, in virtù della sua storia molto travagliata, non manca di certo di scene tagliate e o modificate. Una delle scene tagliate che personalmente non avrei affatto tagliato è quella della morte di Ben Hildebrand, il compagno di Amanda Kirby. A quanto sappiamo, venne girata una scena in cui Ben, rimasto incastrato sugli alberi di Isla Sorna, viene attaccato dai veloci Raptor, mentre Eric scappa per mettersi in salvo. Jurassic Park 3 è tutto sommato breve come film, quindi questa scena, secondo me, avrebbero dovuto inserirla. Nei trailer di Jurassic Park 3 si può vedere l'aereo che porta i Kirby, Alan e gli altri su Sorna, mentre decolla probabilmente dalla pista in Montana. Ciò conferma che venne girata una versione estesa della partenza che venne poi tagliata. In uno dei primi copioni, le morti di Nash e Udesky erano invertite. Nash veniva ucciso dai Raptor, mentre Udesky veniva divorato dallo spinosauro. A proposito dello spinosauro, la sequenza della lotta tra lui e il tirannosauro venne pensata inizialmente in una versione estesa. Nel dettaglio, lo spinosauro colpisce il T-Rex al muso con i lunghi artigli, aprendo così le danze. La sequenza estesa dura oltre due minuti, quella del film dura solo un minuto circa, ed è parzialmente visibile in alcuni vecchi trailer e anche in alcuni contenuti speciali del film. Un'altra scena girata e poi tagliata di Jurassic Park 3 mostra gli Udesky tentare di lottare contro i veloci Raptor impugnando un bastone. Udesky poi sarebbe comunque deceduto. La sequenza ambientata presso il laboratorio InGen venne girata anch'essa in versione estesa, con Alan e gli altri che lo esploravano più a fondo scoprendo altri embrioni e strutture della InGen. Anche la scena della voliera avrebbe dovuto essere molto più lunga e articolata. Inoltre, Billy sarebbe dovuto morire dopo l'attacco degli Pteranodonti, ma ciò venne cambiato. Anche Jurassic Park 3 ha avuto vari finali alternativi. In uno gli Pteranodonti attaccano gli elicotteri della marina, in un altro lo spinosauro arriva sulla spiaggia, salvo poi essere ucciso dal branco di Veloci Raptor. Il finale che conosciamo, quello definitivo insomma, è stato invece privato di una parte in cui Polla e Amanda si baciavano, testimoniando la loro riconciliazione dopo l'avventura su Isla Sorna. E queste erano le principali scene tagliate dei primi tre film di Jurassic Park. Spero che questo video sia risultato interessante e fatemi sapere nella sezione commenti se e quali scene tagliate conoscevate già. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamento oppure super grazie direttamente su YouTube, in alternativa PayPal e TP, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!